ciao amici fratelli della congrega dobbiamo assumere contezza no un giusto contegno perché lo richiede l'occasione si sono un uomo che dice tutto e dice niente per depistare i pensieri della gente o per inquadrare me stesso perché sono uomo enigmatico spesso fesso però rifletto pondero in quanto poderosamente ponderoso riflessivo spessozioso passato fui per maloso me la prese per offese inusitate aggressioni spropositate effettuate contro la mia persona ma perdono questi malfattori perché io non sono un tipo la pino farinotti ma è tutta farina del mio sacco e loro liberano le scrutali sacche si offendendo il prossimo attaccandolo si sentono più virili e sentono di aver compiuto diciamo il loro dovere a loro da piacere questo sadismo che perpetrano modo imperterrito io non rimango più stizzito né interizzito né arrabbiato neppure adirato allora su sfumatura plumbea allineata oserei dire incorniciata armoniosamente delicata intonata al clima pioviginoso voglio nuovamente parlarvi o sparlarvi no di un uomo a volte lezioso altezzoso affetto da altezzosità un uomo che ha compiuto i suoi studi accademici laureatosi in lettere filosofia quindi non datosi al dams perché forse ai suoi tempi non era neppure stato istituito che recensì anche la visione cinematografica di jacques cano il nome della rosa a proposito di scienze delle comunicazioni o del dams no le scienze delle comunicazioni di umberto eco e allora sapete a me piace spaziare pazziare impazzire e poi rinsavire perché come affermò sostiene dichiarò cias bukowski un uomo che in vita sua non è impazzito almeno un paio due tre volte o di più 7 8 10 le mie sono innumeribili le mie le mie molteplici pazziaco non può dichiarare per l'appunto di aver vissuto una vita normale ciò può apparire paradossale ma è la verità ora un uomo il merighetti uscirà la nuova edizione edizione dei film 2022 un uomo che livella a proposito non viene recensito diciamo quello sketch di totò no insomma quella sua esibizione non viene disaminata a livella vuole livellare schedare archiviare tutto le schede di merighetti è un uomo che è stato già schedato diciamo inserito fra i miei critici comunque preferiti perché lui non sbaglia mai lui diciamo assume sempre quel tono fra il serioso il serio il facetto un po scherzoso vuole essere un uomo adorabile che ha sempre ragione questa figura critica lui fa la sua porca figura ma rimedio anche delle figuracce quando stroncò impietosamente con severità e in trasfigenza delle più diciamo dure dei film sui quali non ci andò morbidissimo merighetti a merighetti è piaciuto tantissimo di erishman è l'unico film degli ultimi anni a cui ha segnato quattro stellette piene mi trova pienamente d'accordo sono concorde con lui concordiamo su questa sua opinione invece gli sono discordante in merito a sue esternazioni e sue valutazioni votazioni assai impropri inopportune e troppo frettolose a proposito cosa dice merighetti di twin peaks merighetti nutre una una credine diciamo non stima ecco particolarmente sergio leone e non glielo può più dire personalmente in quanto leone non c'è più e non ama anzi disprezza pieno ma non del tutto non interamente Lars von Trier qualcosa gli piace sulla casa di Jack ci è andato giù pesantissimo pesantissimo merighetti è uno che comunque sa il fatto suo è il classico uomo oggi è domenica no si ode il frasso e il baccano dei vicini ecco ci sono le partite di calcio e la gente sbraita urla si dimena si scalma scalma negli stadi il suo stato stadio mentale è sempre elegante da uomo affabile da critico non sempre però affidabile classico uomo che se fosse trascinato a vedere una partita di calcio con gli ultra che esplodono in grida isteriche inferociti si stanno perdendo contro gli avversari merighetti al gol che ne so della della rimonto del pareggio anziché deflagrare no in un urlo merighetti gol meridacchio uomo da plomb di savoir faire di allure meglio il falò un uomo sincero autentico alle prossime lezioni donne no dicevo uomini alle prossime lezioni votate il falotico per un mondo migliore più verace più vivo più spontaneo e più naturale si dopo essermi malinconito dopo che diciamo il mio eloquio linguaggio de pao però il naufragò nel marasma nel mare oceanico delle mie sconfinate tristezze esistenziali scoprì di essere un esistenzialista ancora un uomo di garbo e di leggiadra dolce finezza che parla in maniera impeccabile a volte sbaglia ma peccare umano sbagliare lo è altrettanto parimenti perseverare diabolico potrei essere anche angelico sono un uomo ripeto spiazzante imprevedibile da me stesso imprevisto ok merighetti ha visto vide la serie televisiva che non è una serie un vero e proprio film se viene ripartito in più parti più episodi twin peaks il ritorno mi riferisco alla terza stagione che potremmo considerare diciamo a sé stante però un unicum all'interno comunque di un escursus e nel continuum spazio tempo al ritorno al futuro no temporale e cineastico di questo director straordinario che david lynch è molto conciso per quanto si viene esaustivo riguarda i film da lui snobbati liquidati in due parole su di irishman spese e basta col frusciante che dice facciamo due parole si dice spendiamo due parole ecco spendiamo un po di tempo a parlare meglio miglioriamo ecco dicevo spese molte parole elogiative d'elogio riguardo quest'elogio queste ilgia malinconica martin scorsese di irishman e su twin peaks il ritorno è solo una parte due pagine sono dedicate twin peaks cascato l'occhio su monica bellucci qui però non c'è una sua foto questa però twin peaks quattro stellette si riescono a leggere sono quattro non sono quattro pagine questa è una tesi praticamente universitaria vincerà il pulitzer da cambridge da oxford mamma mia siamo già sei pagine set otto pagine ha scritto cioè è impazzito infatti dopo aver visto un film di lynch di più deliranti no diciamo però a scritte a quella poetica dello sguardo non alla forrest gump ma uno sguardo proposito di un futuro rinnovato di un falotico esuberante ecco a volte farneticante a volte sproloquia inopportunamente ecco dicevo adesso mi sono perso nel delirio e nel mio deliquio per il ludibrio della gente che mi sbertuccerà mi scimmiotterà insomma mi coglionerà e per il culo mi prenderà totò popò ma dicevo basta allora merighetti è un uomo che rivede le sue posizioni anche se a letto ecco mi ha letta diciamo anche sul divano non solo ha letto leggere le recensioni del merighetti farmi un'opinione in merito riguardo delle sue opinioni diciamo e opinionare diciamo obiettare quando credo sia poco obiettivo e anche lui è solipsista diciamo no ecco a proposito la casa di jack da lui stroncato vediamo se la registrazione non si blocca sto renderizzando un grande video su this must be the place ecco può succedere basta riconoscere i propri errori e diciamo rivedersi in merito diciamo era vedere insomma quando troppo precipitosamente o se volessimo utilizzare la parola più lunghi in italiano precipitevolissime volmente che non è super califragistiche spiralidoso diciamo di mary poppins alcune persone laureate in italiano pensano che sia la parola più lunga in italiano e non esiste non esiste non esiste proprio ecco dicevo blues brothers io sono un po come quattro stellette masterpiece il caimano lui va ammato per moretti ha acclamato anche la sua ultima opus sono meritevolo invece di una stroncatura eh sì 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 c'era una volta no ma in casa di jack una stelle c'era una volta o non cambia succede una volta in messico una stelletta e mezzo dopo il mariace e disperando ecco moretti e disperato che l'ho stroncato ma non gliene può fregare di meno la saga messicana di rodriguez anche sceneggiatore e direttore da fotografia e compositore montatore produttore allora lui bucoschi factotum aspira ad atmosfera a proposito di madillon non acclama troppo rasti selvaggio invece secondo me l'opera migliore di coppola la svontriere diciamo no no ecco aspira ad atmosfere soporifere no epiche e leoniane sin dal titolo cerca un'inedita coralità fa slittare all'infinito le rese dei conti finali di salta utopia libertare ma nonostante l'ottimo montaggio i divi dè per rook che in testa a loro agio il gioco funziona solamente per pochi minuti poi emergono i soliti limiti del cinema giocattolo post moderno i confini tra citazionismo e parassitarietà me dico c'è un fallito parassi sei finito ma no la mia vita appena riniziata ripartita a proposito delle partite si fanno labili quello è uno psicolabile il film è interamente girato in digitale ma non si vede come no si può vedere di tv a scomprare un dvd ecco c'era una volta in a me due stellette e mezzo non cambia non cambia merghette quella testa circoncisa a me di di cazzo proprio non vuole cambiare il suo giudizio prima era due stellette addirittura ma lo sforzo di sei sceneggiatori le ho benvenuti piero de bernardi enrico medio medio franco arcali franco ferrini oltre al leone che sono ispirati al romanzo mano armata di harry gray non ha prodotto un solo personaggio poi c'è anche c'era una volta a new york di james gray con la non con la e è un uomo gray grigio quanto da a grigli con liam ninson di ciò carne non ha prodotto solo personaggio incoerente adorato spropositato non posso evitare buchi nel racconto come sempre leone riesce bene alla trasfigurazione lirica del triviala rende epica una mano che pescola lo in una tazzina mi strugendo il ricordo di uno stupro tanto gratuito quanto repellente ma lo stile non basta per quanto le singole sequenze siano dirette magistralmente c'è troppo auto compiacimento oltre a un'aridità di sentimento che lascia perplessi un film che vorrebbe essere anche una grande illigia romantica quindi gli è piaciuto più di aeree cioè non basta con questi paragoni un cinema diverso fra leone scorsese c'era una volta vediamo un po il west due stellette e mezzo proprio vabbè merighette c'era una volta hollywood di jack ellie jr e poi c'era una volta a hollywood vediamo quanta da ma non si sa c'era una volta a hollywood c'era una volta a new york due stellette c'era una volta a new new york due stellette c'era una volta a hollywood due stellette ma ha ragione ma ragione è un tarantino già prosciugato in borghesito che vuole omaggiare quegli spettatori un po agi diciamo però strano che non sia piaciuto a merighetti che amo un po passatisti nostalgici allora tarantino ha girato i masterpiece sono le iene pal fiction jackie brown kill bill mi piace in alcune cose in altre no diciamo bastardi senza glocci sono dei dialoghi la scena nella taverna la caverna batman lì c'è il gioco se ci sono io che appaio sì io sono un grande attore come christopher walt e fushante bass non è christopher walt che dice sempre christopher waltz waltz no c'era una doll due stellette fa schifo infatti non è un gra che non è un gra che io se mi fate incazzare ecco potrei diventare il brad pitt di questo film venite a casa mia sì 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 venite venite l'ecidio di cielo drive ma chi taccido come dicono in meridione chi mi uccide ma solo me stesso quando non credo in me quando la disistima prende il sopravvento adesso tira un forte vento ma tira ci tira quanto da merighetti lino bump e gg raider viene avanti cretino con la scena del dentito martedì dove andare dal dentista pulire ma quale pulizia mentale la pulizia dentale ci vuoi vedete che sguardo guardate mette soggezione merighetti gli occhialini dell'intelletto al man ma di mio sono anche quando voglio un bell'uomo diciamoci la verità sono il nuovo leonardo di caprio proposte di caprio che balla in cero una volta olio lì ci vuole anche peppino di capri e balla il twist io sono il più grande critico di cine del mondo e sapete perché sapete perché perché io critico me stesso sempre perennemente quello che dovreste fare voi quando sbagliate le persone malate di mente siete dementi non rivedete mai le vostre posizioni una volta che diciamo dita una persona tu sei un flop come merito pallino vuoto no no da pallino vuoto arriveremo a una stelletta pessimo poi si migliora due stelle arriviamo a quattro diciamo che adesso siamo sulle due stellette e mezzo ma crescendo sempre di più il falottico diventerà un masterpiece come di Irishman e come Twin Peaks perché sono un delirio un De Niro vivente anche se De Niro non ha mai lavorato con David Lynch mi dispiace molto però a proposito di Danny Moretti ha lavorato in Mad Dog and Glory di John McNaughton regista di Henry Pioggia di San che teorie dell'ombroso mica sono quello lì Charles Manson e quell'altro Henry Liliuca è stata lì e balla il twist twist da ridda da ridda vedete UMA 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 è buona questa questa è buona è molto buona eh sì questa qui adesso vai di là ti fai una voi non valete una sega siete delle mezza pugnette vabbè qua si fa dura l'avventura si fa molto dura la mia vita in peritura e sono immortale grazie